Cercherò di fare di tutto perché venga fatta giustizia, perché non è giusto. Me la sono messa proprio come missione quella di combattere contro il bullismo e il cyberbullismo. È una piaga della società che va stroncata sul nascere. Non ha alcuna intenzione di arrendersi. Ilaria Bidini, 32enne, aretina, affetta da osteogenesi imperfetta, nominata dal presidente Sergio Mattarella, Cavaliere della Repubblica, con grande coraggio e determinazione, aveva denunciato chi l'aveva offesa e minacciato online, aggressioni verbali, feroci insulti e commenti velenosi sul canale YouTube dove posta i suoi video. Ilaria aveva così presentato vari denunce alla polizia postale di Arezzo nel tentativo di scoprire chi si cela dietro a quel nickname. Adesso la procura di Arezzo ha però chiesto l'archiviazione del fascicolo. Ilaria ha già annunciato che assieme al suo legale presenterà opposizione alla richiesta del PM. Perché a quanto pare è impossibile risalire a chi è. Io sinceramente, se posso esprimere la mia opinione, sono parecchio delusa. Perché prima cosa sto portando avanti un progetto dove vado nelle scuole e vado dai ragazzi a combattere contro il bullismo. E se sento una cosa del genere nei miei confronti, come posso dire ragazzi denunciati? Cioè, mi sembra che, non lo so, secondo me è una grande sconfitta questa. Ma io non lo dico soltanto per me, lo dico soprattutto per tutte quelle persone che purtroppo subiscono continuamente atti di bullismo, fin dalla più tenera età. Cioè, è quello che invito a fare, fare una riflessione, a pensare a quanto possono essere dannose certe parole nei confronti di un minorenne.